Ancora una volta voi lavoratori di Soggeiro in protesta, che cosa chiedete? Chiediamo di poter mangiare, di fare la spesa come tutti i lavoratori. Purtroppo non avviene questo perché avanziamo due mesi, più gli arretrati eccetera. E quindi manco più le bambine a scuola possiamo mandare. A Narotecchia ne resta solo di frugare nell'immondizia per poter cucinare. Sono comuni che pagano Ribera, Sciacca e qualche altro paese, però ogni volta vengono pignorate le cose e noi restiamo sempre senza soldini. I lavoratori si sono riuniti questa mattina nella sede di Sciacca della Soggeiro alla presenza del commissario straordinario Salvatore Guelli. Questo il suo commento. Abbiamo una situazione che si sta mettendo in ginocchio. Abbiamo avuto un pignoramento da parte di ditte che lavorano per la Soggeiro. Io sto cercando di sbloccare questa situazione. Lei capisce che non dipende da me o dai comuni di Sciacca, Ribera e altri comuni. Io sto cercando con gli avvocati di trovare una soluzione per sbloccare questi pignoramenti, sbloccare i somme che i comuni sono pronti a pagare. Sto mettendo tutta la mia buona volontà e tutta la mia esperienza. Stamattina ho incontrato le ditte che hanno fatto il pignoramento e abbiamo trovato una soluzione a questa vicenda. Spero che entro il giorno 10 di risolvere questa questione e dopo di ciò, sbloccando le somme, possiamo andare avanti e pagare i lavoratori. Promotore dell'incontro è stato il sindaco di Ribera, Carmelo Pace, uno dei pochi sindaci che questa mattina ha preso parte alla riunione. I sindaci o comunque le amministrazioni presenti siamo le solite amministrazioni che ormai da diversi anni manteniamo tutto quello che è il circuito Soggeiro. Oggi siamo presenti, Sciacca e Ribera e qualche altro comune, vedo Montevago e Lucca Sicula. A questo si aggiunge che una scelta reiterata e scellerata della Soggeiro di affidarsi al noleggio di privati piuttosto che acquistare mezzi, e lo voglio ribadire, con gli stessi soldi avremmo acquistato più mezzi rispetto a quello che abbiamo affittato senza avere nulla in cambio, ma in cambio invece abbiamo la situazione di fatto, cioè le ditte che sono state privilegiate da questo sistema adesso bloccano tutto e fanno sì che circa 70-80 dipendenti, quindi 70-80 famiglie, non riscuotono lo stipendio per due o tre mesi. Presente anche l'assessore Gaetano Cognate, rappresentanza del comune di Sciacca. In questo momento c'è un pignoramento in atto, quindi è una situazione che crea delle grosse difficoltà, perché il comune sostanzialmente, sia quello di Sciacca che di Ribera, che sono i comuni pignorati per questi debiti dalla Soggeiro, non possono di fatto provvedere a dei pagamenti. Quindi se non si sblocca questa vicenda, di fatto non possono essere fatti nuovi pagamenti, quindi la difficoltà nel pagare i lavoratori diventa sempre più complessa. E i lavoratori di Soggeiro non si fermeranno qui. È già in programma una giornata di sciopero l'8 marzo, come c'enticipa il sindacalista Enzo Iacono. Noi programmeremo una giornata di sciopero per l'8 marzo, per sensibilizzare gli enti, ma devo dire anche il Tribunale di Agrigento, perché c'è in corso un pignoramento e ci accorgiamo che il Tribunale rinvia di mesi, quando qua c'è il problema di comprare il latte ai bambini. Voglio fare un appello alla sensibilità di tutti degli enti interessati affinché permettano di pagare gli stipendi ai lavoratori immediatamente.